Salve e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere un progettino che volevo realizzare da tantissimo tempo e che finalmente sono riuscito a portare a termine. Cioè progettare e creare la mia, chiamiamola, console giochi, ma completamente analogica. Quindi in questo video scordatevi Arduino, SP32, microprocessori e memorie integrati digitali di qualsiasi tipo. Ma preparatevi per qualcosa che difficilmente troverete su YouTube. Ma ovviamente vediamo tutto dopo la sigla. Per chi non è nuovo al canale saprà già che mi diverto a creare questo tipo di progetti. Infatti ho fatto diversi video dove progetto e costruisco dei piccoli giochi elettronici. Video che probabilmente ho visto solo io e qualche mio conoscente visto il numero di visualizzazioni. Ma sono giochi che continuerò a realizzare, visto che faccio i video per passione e divertimento e non per le visualizzazioni e una qualche remunerazione. Dato che non è neanche mai attivato la monetizzazione al canale. Ma tornando a noi, oggi alzeremo l'asticella rispetto ai giochi precedenti e andremo a creare un qualcosa che può essere quasi definito come il mio primo videogioco. Ovviamente fatto da cani eh. Infatti tutto questo circuito alla fine è una, chiamiamola, console, completamente analogica per giocare ad una versione di Pong, o meglio qualcosa di più simile a Tennis for Two, ma uno di, e ribadisco, completamente analogico. Sì lo so che molti di voi staranno pensando, beh ma in internet è pieno di video di Pong 1D autocostruiti, dove sta la novità? Vero, ma tutti questi progetti, o almeno quelli che sono riuscito a trovare, sono fatti con dei microcontrollori, come Arduino o simili. Niente a che vedere con quello che ho creato io. Troppo semplice prendere una manciata di LED da connettere a un microcontrollore e scrivere una ventina di righe di codice. Dov'è la sfida progettuale? Il bello di pensare per settimane come creare un gioco sfruttando solo dei segnali analogici per poi provare anche a semplificare il tutto usando meno componenti possibili. Questa per me è la vera sfida, il divertimento. Sì lo so, sono strano e probabilmente anche un po' fuori di testa. Ma dopo tutto, i primi giochi creati, come per esempio Tennis for Two, non avevano mica microcontrollori. Negli anni 50 non esistevano neanche. Ma basta che sto divagando anche troppo. Tornando a noi, alla fine, contro ogni mio pronostico, sono anche riuscito a costruire qualcosa di funzionante e tutto sommato carino, con uno schema elettrico neanche troppo complicato per tutto quello che fa. Infatti questa scheda contiene tra le varie cose un sistema antiimbroglio, o anti-cheating, una parte per gestire tutti gli effetti audio, e tantissime altre cose. Pensate che ero talmente contento del risultato che ho pure deciso di crearmi un PCB in modo da poterlo montare per poterci giocare ogni volta che volevo. Poi, piccolo spoiler, per la verità, il mio vero scopo era arrivare a qualcosa di un po' più complesso. Diciamo una console completamente analogica, con giochi intercambiabili, e display pure integrato. Ma non vi dico altro, al momento, perché è un progetto che sto portando avanti, e in futuro lo vedremo sicuramente nel canale. Ma prima di esaminare lo schema elettrico, e perché ho detto che non è così complicato, vediamo come funziona questo videogioco di Pong 1D. La console ha quattro pulsanti, due per il primo giocatore, e due per il secondo giocatore. Un pulsante sarà diciamo usato come reset, e il secondo invece sarà la nostra racchetta. Il display, se così si può chiamare, è fatto da questi quattro LED centrali, più questi due LED rossi. Ogni LED centrale, illuminandosi, mostrerà la posizione in tempo reale della nostra pallina virtuale. Dopotutto staremo simulando a tutti gli effetti un tavolo da ping pong, o un campo da tennis, e due giocatori che continuano a lanciarsi la palla. Questi altri due LED rossi, invece, sono per indicare sia chi ha perso, e sia chi deve, diciamo, virtualmente... servire. E se vi state chiedendo invece a cosa serve il potenziometro, beh, questo non è altro che per modificare la difficoltà del gioco. Ma vediamo tutto con calma adesso. A inizio partita la palla si troverà da uno dei due giocatori, diciamo quello che avrà il LED rosso acceso. Per iniziare la partita, il giocatore in possesso di palla, dovrà premere l'apposito pulsante di reset, e quindi fare, diciamo, una battuta virtuale, e iniziare così la partita. Da questo punto in poi, entrambi i giocatori potranno utilizzare l'apposito pulsante racchetta, chiamiamolo, per ribattere la pallina, come se fosse colpita proprio da una racchetta virtuale. Ovviamente bisognerà premere il pulsante solo nel momento in cui la pallina virtuale arriverà abbastanza vicina ad essere, diciamo, virtualmente colpita. Ovvero, nel momento in cui l'ultimo LED vicino al pulsante si accenderà. Tenere sempre premuto il pulsante per ribattere la palla, o anche solo premerlo troppo presto o troppo tardi, non servirà a nulla. Anzi, vi produrrà alla disfatta. Infatti, nel circuito ho implementato diversi sistemi anti-cheating, ovvero anti-imbroglio, per rendere le partite più divertenti e sportive. Forzando quindi i giocatori a indovinare la giusta tempistica per premere il pulsante e riuscire a ribattere la palla solamente quando sarà acceso il LED giallo. Il primo dei due che non riuscirà a ribattere la palla nelle giuste tempistiche perderà. Infatti, non solo la console emetterà un suono particolare enunciando la sconfitta, ma anche il LED rosso si accenderà e tutto il gioco rimarrà bloccato finché il giocatore, che ha perso, non premerà l'apposito pulsante per iniziare nuovamente la partita. Come visto prima, o anche previsto, per la console la possibilità di rendere più difficile la partita. Diciamo quel famoso potenziometro cui io vi avevo accennato prima. Infatti, ruotando il potenziometro andremo a cambiare a tutti gli effetti la velocità con cui la palla si muoverà, rendendo sempre più difficile trovare la giusta tempistica per ribattere la palla. Ora che sappiamo più o meno come si svolge la partita, andiamo a vedere come fa a funzionare tutto, con solo qualche transistor e qualche op-amp. Lo schema, infatti, visto così, potrebbe sembrare complesso, ma nella realtà è possibile suddividerlo in diversi parti più semplici, che effettivamente seguiranno per scopi diversi. Per esempio, se lasciamo perdere tutta la prima parte di alimentazione, troviamo un blocco di circuiteria dedicato al display, cioè al controllo dei LED, una parte che non sarà altro il vero cuore e la logica del gioco, una parte anti-imbroglio, e infine una parte che potremo chiamare scheda audio. Ah, vi avverto già che il progetto è abbastanza consistente, e quindi ho preferito dividere la spiegazione dello schematico in due parti per mantenere il video più leggero e fruibile. Però non preoccupatevi che a breve uscirà la seconda parte, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervelo. Ma torniamo a noi. Partiamo dal primo blocco, quello chiamiamolo del display, visto che ci permetterà di capire un po' meglio come funziona tutto il resto. Questo blocco di componenti che comanderai vari LED è fatto da operazionali configurati in modo da essere dei comparatori di tensione. O meglio, il primo e l'ultimo sono dei semplicissimi comparatori, mentre tutti quelli centrali funzionano a coppia, creando dei comparatori a finestra. Diciamo dei comparatori abbastanza differenti da quelli classici. Infatti, con i classici comparatori, lo stato dell'uscita cambierà quando la tensione da comparare sarà maggiore o minore rispetto a quella della soglia di riferimento. Questi comparatori a finestra, invece, controllano se la tensione da comparare è all'interno di un intervallo specifico, chiamato finestra. In pratica, l'uscita cambia solo se la tensione elettrica è compresa tra due valori specifici. Ad esempio, potrebbe essere 4,5V e 5,5V. Se la tensione è troppo bassa, per esempio 4V, o troppo alta, per esempio 6V, l'uscita rimarrà sempre la stessa. Ma se la tensione è all'interno della finestra, per esempio 5V, l'uscita comuta. Dopotutto, questo tipo di comparatore a finestra è a tutti gli effetti formato da due comparatori di tensione. Uno configurato per avere la sua uscita a più V saturazione, quando la tensione è superiore alla soglia, e l'altro invece sarà configurato per avere la sua uscita a più V saturazione, quando la tensione è inferiore alla sua soglia di comparazione. Unendo queste due uscite con questi due diodi, troveremo sempre circa più V saturazione, a meno che la tensione che stiamo comparando non è compresa tra le due soglie dei singoli comparatori, che avranno quindi entrambe le uscite a meno V saturazione. Inoltre, questi due diodi serviranno anche a protezione degli O-Pump, impedendo che tensioni positive rientrano all'ingresso dell'altro O-Pump, per esempio, quando l'uscita del primo operazionale è a V più saturazione, e quella del secondo operazionale ha meno V saturazione, o viceversa. Ora, collegando il vero output del comparatore a finestra a un LED, in questo modo, quando avremo più V sat, in uscita il LED sarà spento, perché praticamente non ci sarà differenza di potenziale sui capi. Nel momento in cui saremo dentro la tensione di finestra, e l'uscita dei due O-Pump sarà a zero, il LED potrà accendersi attraverso questo registore, visto che questi due diodi saranno polarizzati inversamente. Tornando a noi, per come ho connesso tutte le varie tensioni di soglia dei comparatori, in pratica tensioni ricavate da questo partitore di tensione resistivo, i LED si accenderanno una alla volta, in sequenza man mano che la tensione aumenta o diminuisce. In poche parole, ogni intervallo di tensione da zero alla tensione massima corrisponde a un LED. E se vi state chiedendo perché li ho configurati in questo modo, beh, lo scoprirete nel prossimo episodio. Sì, il video è diventato anche troppo lungo per i miei gusti. Se avete però domande, dubbi, suggerimenti, scrivetemi nei commenti, o altrimenti fatemi solo sapere come avete trovato il video. Ovviamente, se la puntata vi è piaciuta, mettete like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Tutte cose per voi senza costo, ma per me molto importanti. Noi ci vediamo presto con la seconda parte. Ciao! No, magari me lo ci gioco io. Allora, adesso te lo lancio. No! No, è rosso? Ah, ma perché è scomodo così? Eh, ma perché devi avere due mani per giocarsi? Ah, va bene, ok. Di questo reset. Vai! Ah, che cazzo! Scarso! Oh, scarso! Ho premuto il reset. Sì, ma se previ reset, imbrogli. Lo so! Quindi sai che se hai il reset, puoi imbrogliare se uno sta vincendo. Mi si è impallato il cervello, stavo facendo una cosa sbagliata. E la massima velocità come va? Ma se in una città non lo vedi neanche. Ma devi limitarlo? L'ho limitato. Però ho usato un resistore da 1K perché ne avevo 1000. Invece vorrei usare 10K ma ne avevo meno. Allora ho detto tanto questo è da 100K. Chi se ne frega. Una volta e poi senti, aspetta. Perché si sta scaricando il testatore? E fa così. Ma è simpatico. Ci sta dentro. Perché sembra quasi che sta piangendo che l'hai spento. Sì. Ci servirebbe un bel tabellone con i punti G. Eh sì, va bene. C'è l'altro tabellone. Next generation. Sì. Va bene, bastano due display LCD. No, che LCD? Ho sette segmenti. Sì, lo so, ma fallo in analogico. Questo è bello perché ho fatto tutti in analogico dove ci metto un Arduino poi per contare i punti? No, tutti operazionali. Esatto. Anch'io posso fare un tabellone segna punti. Ce l'ho in testa. Sono tanti comparativi. Eh no, cavolo, io ci parlo anche le ore così. Grazie a tutti.